ciao amici di comic eccomi finalmente rientrata in italia nella foresta italiana con almeno una ventina di gradi in più per farvi un resoconto della trasferta a sostegno del film la forêt de mon père into dead woods avrei voluto fare un post arricchirlo di foto video reportage ma le energie dopo le traspette sono quelle che sono e quindi andiamo direttamente al succo della questione facendovi questo piccolo video aggiornamento che così posso trasmettervi tutto quella immenso patrimonio di emozioni incontri e conoscenze che in questa brevissima trasferta ho riportato indietro iniziamo subito col dire che una proiezione in foresta è già di per sé una occasione speciale ma essere dentro la foresta in cui il film è stato girato aggiunge all'evento un tocco di magia era un sogno grandissimo della regista vero krasborn di realizzare un'anteprima proprio lì ha realizzato questo sogno grazie a un team incredibile di tecnici della cine league che è una realtà che porta il cinema al pubblico e che hanno fatto un lavoro straordinario per montare uno schermo confiabile e allestire tutto perché fosse una proiezione di qualità sonora e visiva eravamo tutti ovviamente distanziati con le nostre sedute all'aria aperta e ho incontrato due psicologhe rappresentanti dell'associazione del film di parigi che sono venute apposta alla proiezione per loro avevano già visto il film era la sesta volta per conoscere anche me sapendo che sarei venuta dall'italia avendo visto ed essendo rimaste colpitissime dal video del Ted X Talk di Napoli se non l'avete ancora visto andate su youtube quando mamma e papà hanno qualcosa che non va e capirete anche il perché questo legame con la foresta di cui la stessa regista è rimasta colpitissima perché perché anche per lei la foresta ha un ruolo simbolico anche nella storia del suo film andiamo però a conoscere meglio il film e scoprire qual è la trama come saprete la trama è un po quello che è la nostra storia c'è una famiglia ci sono tre figli il punto di vista principale quello di Gina un adolescente di 15 anni che inizia diciamo a dover fare i conti con un papà che inizia a traballare tra realtà e follia perché a un certo punto lo vediamo piano piano precipitare dentro una crisi psicotica e diciamo la bravura di Verocche ha tinto la sua storia personale di figlia ma non solo perché la specifica molto bene non ho fatto un copia e incolla nella mia storia ma mi sono documentata ha fatto anche delle ricerche presso una clinica psichiatrica è stata a contatto con i pazienti con i professionalisti ha fatto un lavoro preziosissimo anche artistico di scavo e vediamo proprio la camera ad altezza bambino quindi vediamo le reazioni dei fratellini dalla più piccola a quello medio ragazzo e ognuno di loro ha una reazione diversa ma anche il ritratto della moglie interpretato da lui di disegnere è straordinario perché rappresenta anche una donna le prese con diciamo la 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 il distacco dall'uomo che ama che non riconosce più e che in qualche modo deve essere salvato ma lei non ha gli strumenti per farlo e quindi a un certo punto dovrà prendere una decisione drastica e suscitando poi anche un conflitto con la figlia adolescente in tutto questo ciò che ha colpito me particolarmente venendo dall'italia sono molte differenze rispetto poi alla presa in carico dei pazienti c'è anche lì un trattamento di che sanitario obbligatorio ma a differenza di quanto accade qui perlomeno nella nella regione in cui io sono cresciuta in lazio per i primi giorni dopo il ricovero i pazienti non hanno possibilità di ricevere visite quindi c'è un isolamento un altro particolare che mi ha colpito si vedrà poi in una scena è che il padre è chiuso a chiave nella sua camera cosa che da noi insomma salvo ecco situazioni non non lecite da noi non accade quindi ci sono una serie di aspetti che ci distinguono ci differenziano dalla francia quello che però è comune è l'assenza totale di prevenzione informazione su questo tipo di malattie il fatto del dell'isolamento in cui viene poi a trovarsi la famiglia e il fatto che i bambini sono sono là sono presenti ma rimangono di fatto invisibili perché non viene loro fornita alcuna spiegazione su quanto accade al loro papà addirittura gli viene negato il contatto fisico poterlo vedere per i primi giorni del ricovero e in tutto questo c'è anche una moglie una mamma che deve provvedere economicamente alla famiglia avere a che fare con il lutto per la perdita temporanea comunque dell'uomo che che ama e che ha sposato e gestire poi tutta la questione dei propri bambini il film è stato fatto con una poesia una delicatezza una ricerca del dettaglio artistico e corporeo infatti anche l'attore principale alban le noire è stato preparato a interpretare un personaggio che appunto inciampa nel mondo della sofferenza psichica ed ha un episodio psicotico attraverso una una donna che ti occupa appunto di coreografare e di dare agli attori strumenti per mettere in movimento il corpo a servizio della storia del racconto la ricerca poi della dell'uso della foresta anche per un collegamento metaforico il perdersi nel bosco come metafora del perdersi in una sofferenza di cui non si conoscono i limiti e la misura e vederlo appunto nel bosco sotto le stelle amplificato tutta questa dimensione emozionale è un film che sicuramente sta facendo nascere un dibattito in francia sui forgotten children cioè sui figli dimenticati e di cui però si fa portavoce per il suo paese come comit abbiamo voluto andare a sostenere quest'anteprima primo perché il film non è ancora disponibile in italia non sappiamo neanche se lo sarà e quindi noi vogliamo farci lettori perché un film come questo arrivi da noi perché possa essere diciamo strumento di costruzione del cambiamento che sia io che verò che tanti altri agenti attivi di cambiamento in tutto il mondo desideriamo e perché perché abbiamo bisogno di energie quando il panorama si fa fittico quando non si vedono buone nuove all'orizzonte c'è bisogno di raccogliere le forze e andare diciamo a raccolta di chi sono i nostri arrivano i nostri diceva qualcuno e quindi noi siamo andati dai nostri fuori italia raccogliere energie e riportarle indietro questo è un po quello che mette in moto quando tutto è statico e quindi abbiamo potuto fare questo collegamento che non sarà l'ultimo abbiamo portato la nostra bandiera comit perché perché il simbolo di quella bandiera è personalmente sono partita da sola in questo cammino personale ma anche di lotta collettiva la bandiera è tenuta in mano da tante persone tutto il mondo è dalla solitudine alla costruzione di una rete per il cambiamento non siamo soli fatto immagine concretizzato nella speranza che sia di stimolo a quello che vogliamo costruire quindi non più famiglie sole figli soli persone soli con la propria sofferenza ma un sistema un sistema che sempre di più sia centrato sulla prevenzione e sull'abbattimento della paura che riguarda i temi della salute mentale perché dobbiamo essere tutti coinvolti esattamente come facciamo per il pianeta non possiamo pensare di occuparci di qualcosa solo quando già il problema è esploso dobbiamo arrivare prima ed è possibile farlo ascoltando le storie le storie universali ecco quello che ha voluto fare vero crossborn con il suo film prendere spunto dalla propria storia e renderla un racconto una narrazione universale che però fa di più crea dibattito crea riflessioni e stimola il cambiamento esattamente quello che fa un'associazione come comip la nostra associazione children of mentally parents non solo in italia ma a livello globale perché questa della salute mentale è una sfida globale che noi vinceremo quindi rimanete collegati con noi and stigma basta stigma ciao a tutti